Grazie, apriamo dal Veneto orientale con il patinaggio. Ha preso il via a Reus in Spagna l'edizione 2014 dei campionati del mondo di patinaggio a rotelle. Si preannuncia essere un evento record con 1024 atleti provenienti da 32 paesi. C'è grande attesa anche ad Odarzo, il servizio di Luca Curtarelli. Odarzo, siamo con Pamela Maronese, vice campionessa italiana di patinaggio, singolo. Sono davvero entusiasta di questa convocazione al mondiale. Mi piacerebbe andarci e fare ovviamente il meglio che si può fare, sperando ovviamente magari in una medaglia o comunque in un buon piazzamento. Mi piacerebbe molto poi andare avanti con questo sport e avere risultati che gratificano tutti questi sacrifici che ho fatto durante tutti questi anni. Siamo con Isabella Genchi, campionessa italiana e campionessa europea di patinaggio, in coppia con il tuo compagno Alberto Peruc. Allora, mondiali, che aspettative hai? Beh, quest'anno è stato un anno davvero difficile e molto intenso perché abbiamo lavorato molto e come si dice tutti i sacrifici vengono ripagati. Lavoriamo da tre anni per questo grande obiettivo che è il nostro sogno, il mondiale 2015. Logicamente bisognerà lavorare, sarà un lavoro molto pesante, molto forte, ma speriamo di riuscire a arrivarci. Come ha già detto la mia compagna Isabella, quest'anno è stato un anno pieno di emozioni in quanto ci siamo qualificati campioni italiani e europei. Il prossimo anno sarà un anno molto impegnativo e faticoso dal punto di vista atletico in quanto dovremo affrontare quest'inverno una preparazione più dura rispetto a quelle affrontate in precedenza poiché ci stiamo preparando appunto per i campionati del mondo che si terranno in Colombia nel 2015. Siamo carichi perché è da quando abbiamo cominciato a fare coppia, quindi tre anni fa nel 2011, che aspettiamo questo momento. Passiamo al calcio di promozione. Ieri sera primo allenamento del neotecnico della Giulia Sagittaria, mister Riccardo Canziano. Lo abbiamo sentito? Sì, è una bella avventura. I ragazzi li ho appena conosciuti, mi hanno già fatto un'ottima impressione. Li avevo già visti domenica in campo, è coinciso anche con la prima vittoria stagionale, quindi questo aiuterà ancora di più il mio lavoro perché crea sicuramente entusiasmo. I ragazzi li ho visti ben disposti a iniziare questa nuova avventura assieme. Conosceva già gli elementi della squadra? Sì, beh, Giannotta, Bonpan, Bianco, insomma sono ragazzi che in categoria ci stanno da tanti anni e che già ci siamo incontrati da avversari, quindi sono ragazzi che mi daranno una mano importante nella gestione del gruppo e nel saper, come dire, far giocare bene anche i giovani che abbiamo in squadra e valorizzarli il più possibile. Ha visto anche la vittoria di domenica scorsa, quindi sicuramente è un buon viatico per iniziare questa nuova avventura. Assolutamente sì, punti, anche se si cerca di creare lavoro sotto tanti punti di vista, sotto tanti aspetti, in campo si lavora sempre con determinazione, alla fine la discriminante è sempre riuscire a fare punti che valgono per la classifica, perché questo comunque aiuta a lavorare meglio ancora, a creare entusiasmo, soprattutto perché la categoria chiede questo. Conoscendo già parecchi elementi, dove può arrivare questa squadra? Io direi che come inizio bisogna viaggiare con umiltà partita dopo partita, e iniziare a cercare una situazione di classifica più tranquilla. Siamo ancora all'inizio, a dire la verità, è abbastanza corta la classifica, quindi a maggior ragione diventa importante riuscire a non perdere le tracce delle squadre della parte medio-alta della classifica. Se saremo bravi e lo meriteremo, lo dimostrerà solo il campo. La nostra priorità deve essere quella di andare partita dopo partita, quindi ogni domenica ha una sua storia, dobbiamo cercare di giocare ogni domenica per il massimo del risultato. Per oggi è tutto, grazie dell'attenzione. La linea può tornare alla redazione di Padova.